Trasportare in sicurezza gli studenti che dal lunedì 14 settembre torneranno a scuola è questo l'obiettivo da raggiungere. Dedicato tema affrontato a Palazzo Muzzo durante il vertice convocato e presso dal prefetto Salvatore Pasquariello. La riunione in videoconferenza della terza sezione della Conferenza Provinciale Permanente Territorio Ambiente e Infrastrutture ha messo a confronto tutti i soggetti coinvolti. L'Ufficio Scolastico Territoriale, Regione Lombardia, ATS della Montagna, Agenzia per Trasporto Pubblico Locale, STPS, le ditte automobilistiche Perego e Giannolini, Trenord, RFI, Confartigianato, i sindacati di categoria di CGL e CISL. Presenti i rappresentanti dei comuni di Sondrio, Bormio e Morbegno. Il dirigente dell'Ufficio Scolastico di Sondrio, Fabio Molinari, si legge nella nota diffusa dalla prefettura, ha precisato che la scuola si appresta a ripartire in sicurezza nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Il rappresentante dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale ha fatto presente che sulla base delle prescrizioni attualmente in vigore per il trasporto extraurbano l'80% della capienza massima equivale al 100% dei posti a sedere, mentre per quello scolastico la percentuale dell'80% è riferita solo ai posti a sedere, non essendo possibile avere posti in piedi. La situazione in provincia di Sondrio è stata spiegata, non desta particolare preoccupazione. Trenord ha precisato che è stato predisposto un programma di potenziamento del servizio con l'occupazione di tutti i posti a sedere. È stata anche prevista la dislocazione di autobus in grado di dare risposte immediata in caso di criticità dovute al sovraffollamento. RFI ha comunicato che nelle stazioni ferroviarie è stata collocata tutta la segnalitica indispensabile e i responsabili degli uffici movimento vigileranno affinché non si creino assembramenti. STPS ha fornito rassicurazioni, ma allo stesso tempo ha manifestato preoccupazione sulla gestione dell'utenza nell'autostazione di Sondrio Morbegno, negli orari di punta della giornata. A tal riguardo l'Agenzia per il trasporto pubblico locale e le ditte che effettuano il servizio si coordineranno con le polizie locali per evitare la formazione di assembramenti. Confartigianato ha manifestato la necessità di trovare una soluzione al problema delle sofferenze dei bilanci delle ditte di trasporto, dovute al mancato versamento dei contributi comunali per i servizi non effettuati. Sono al vaglio soluzioni che prevedono anche l'anticipazione da parte dei comuni dei corrispettivi dovuti. È stato infatti attivato dal governo un apposito fondo nazionale.